Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi, a educarli secondo la legge di Cristo e della Chiesa? Sì. Sì. Ci siamo. Sono un sentimento umano. Oggi ne pensiamo che l'amore io sento, oggi mi sento, mi amare una persona, domando il riservo, domando. L'amore è vero. Quello, diciamo, non l'amore muscolato, viene da giro. Quindi quando voi vi amate andate all'essenza stessa di Dio. Siete, che mi noio mai è, navigati stai, che mi noio mai è, navigati stai, che mi mi froca, non l'amore è, mi fai, navigati stai, che mi noio mai è. Siete, che mi noio mai è, navigati stai, che mi noio mai è, navigati stai, che mi noio mai è, Una ragazza che si fa volere bene, una ragazza che ha un bel carattere e mi piace tutto di lei. Io, Orazio, accolgo te Nicoletta come mia sposa. Con la grazia di Cristo promette di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Io, Nicoletta, accolgo te Orazio come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella mia vita. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella mia vita. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.